Ciao amici creativi e bentornati a Manine d'Angelo! Oggi voglio farvi vedere cosa poter realizzare con dei semplici bicchieri di carta. L'idea è quella di fare dei segni a posto o comunque dei portaconfetti da poter dare al momento della nascita o del battesimo del piccolo. In questo caso io ho trovato queste due versioni, purtroppo il contrario. Dovevo trovare rosa pua e azzurra a righe e non ho trovato l'azzurra pua e rosa a righe. Quindi pazienza, realizzeremo con queste fantasie di scarpine. Servirà giusto per farvi vedere come procedere. L'idea di queste scarpine è veramente simpatica e soprattutto da femminuccia i modelli che si possono realizzare sono davvero tanti. Da maschietto sono riuscita a realizzare una scarpina da tennis mentre da femminuccia abbiamo veramente diversi modelli. Questo con la rouge, questa con la fascetta laterale, stipanetto con il fiocco davanti e tanti altri ancora. Per una questione di tempo e per non fare un tutorial troppo lungo realizzeremo solo due modelli. La scarpina da tennis per il maschietto e la scarpina con la rouge da femminuccia. Alla fine del video vi farò una panoramica di tutte queste scarpine. Se poi c'è una scarpina in particolare che vi piace e volete vedere come si fa, lo potete scrivere sotto nei commenti in modo che posso farvi un tutorial su quella scarpina nel dettaglio. Ora vi lascio il video di come realizzare questi simpatici segni a posto. Vi invito a iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati e se vi piace il video lasciate un like. Partiamo dalla scarpina con le rouge. Per prima cosa devo specificare che più che un bicchiere questo è un contenitore per muffin di quelli che hanno il bordo smerlato. Andiamo dunque ad iniziare e tagliamo a un centimetro dal bordo tutto lo smerlo. Ricaviamo ora dal pezzo tagliato tre striscioline da circa tre centimetri e mezzo. passiamo ora alla patta. Intacchiamo la parte frontale con due linee a una distanza di tre centimetri l'una dall'altra lasciando circa mezzo centimetro dal fondo, anche di più. Ora uniamo i lembi interni con la colla a caldo. è arrivato il momento delle rouge, andiamo ad attaccarli con la colla a caldo lungo il lembo che forma la patta. alziamo leggermente i lembi delle rouge. Dopodiché con le forbici sistemiamo meglio la sagoma della patta con due linee oblique. ora per addolcire un po' la sagoma della scarpina intacchiamo anche sui lati e formiamo delle pence. Prendiamo il gosso. con i confetti che abbiamo precedentemente confezionato e inseriamoli nella scarpetta. passiamo ora alla scarpa da tennis e prendiamo come riferimento la mia sagoma. per prima cosa la parte davanti della scarpina misura 6 cm. andiamo a riportare questa misura sulla parte frontale del bicchiere con un puntino. la parte dietro della scarpina invece misura 4 cm. riportiamo questa misura sulla parte dietro del bicchiere nella parte opposta alla misura che abbiamo segnato in precedenza. ora torniamo sulla parte frontale del bicchiere e segniamo la larghezza della patta di 4 cm a cavallo del puntino che abbiamo precedentemente segnato. scartiamo la parte del bordo che non ci servirà. ora andiamo ad intaccare dove abbiamo segnato la patta. facciamo però attenzione a non arrivare al bordo. dobbiamo lasciare dal fondo circa 2 cm. tracciamo ora una linea di congiunzione tra la punta che si è creata e il dietro, facendo una linea leggermente curva. andiamo a tagliare. ripetiamo anche sull'altro lato. smussiamo gli angoli della patta. dobbiamo creare ora gli angolini per mettere i nastri. teniamoci a circa 1 cm dalla fine della tacca che abbiamo fatto per la patta e andiamo a tagliare con una linea obbligua formando un angolino. facciamo anche dall'altro lato. con la perforatrice ad un foro andiamo a realizzare i buchetti che ci permetteranno di inserire il nastro. a questo punto la sagoma della scarpina è terminata. andiamo ora a piegare i lembi. prepariamo ora il nastro. dovrà essere lungo all'incirca 30 cm. e andiamo a inserirlo nei buchetti. prepariamo i confetti e inseriamoli nella scarpina prima di allacciarla. e anche la scarpina da tennis è terminata. ora lascio scorrere tutte le varie foto delle scarpine che ho realizzato. in basso a destra lascio un numerino corrispondente. se volete potete lasciarmi nei commenti sia qual è la scarpina che vi è piaciuta di più anche per farmi sapere il vostro parere. e potete anche segnalarmi se volete un tutorial magari su un altro tipo di scarpina un altro tipo di modello di cui non abbiamo parlato oggi per poter realizzare un altro piccolo tutorial. nel frattempo vi ringrazio per aver visto il video e se vi è piaciuto lasciate un like. a presto. a presto. a presto. a presto. a presto.